Celebrazioni con un doppio significato per la festa delle donne. Il consiglio regionale ha voluto premiare otto protagoniste della nostra società, ma ha rivolto anche un pensiero a chi in questo momento è vittima dell'atrocità della guerra. Mazzeo, da qui un segnale di speranza per il futuro. No, non è stato un 8 marzo come gli altri, non lo poteva essere e il consiglio regionale lo ha voluto far presente organizzando una celebrazione che abbraccia le donne ma arriva fino all'Ucraina. Una questione complessa, così come lo è la parità di genere. In questo versante le cose non si muovono come sarebbe opportuno, però passene avanti se ne vedono e le otto donne premiate per i risultati raggiunti sono lì a ricordarlo. Storie magari lontano dai riflettori, ma che vogliamo raccontare per dire sì le donne possono farcela, più o meglio degli uomini, le ha definite il presidente dell'assemblea toscana Antonio Mazzeo. Accanto a lui il presidente regionale Eugenio Gianni, che ha rivolto un pensiero a chi è vittima degli errori della guerra, ribadendo l'impegno della regione per accoglienza e aiuti, che non sono mancati come ha ribadito Oksana Polaichuk, assistente al consolato onorario dell'Ucraina a Firenze, che si è commossa per la solidarietà dimostrata dal nostro paese. Oggi ama ancora più l'Italia, ha detto la donna. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio, un messaggio di speranza e di futuro, premiando otto donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. Vogliamo mandare un messaggio forte, che questa non è straordinarietà, dovrebbe diventare la normalità ed è questo il lavoro che noi come istituzioni vogliamo fare, per cercare ogni giorno di dare più speranza e un futuro migliore alle tante ragazze che vivono la nostra terra. È incivile pensare che ancora oggi una donna su due debba scegliere tra il lavoro e la famiglia e credo che dobbiamo costruire le condizioni perché questo non avvenga e perché quell'immagine che ci arriva dall'Europa della Presidente Mezzola, della Presidente della Banca Centrale Europea e della von der Leyen diventino una normalità e non un racconto di qualcosa di straordinario. Sicuramente un 8 marzo diverso dagli altri, con tanta tristezza nel cuore, con la drammaticità delle immagini che vediamo alla televisione, l'aggressione, le bombe verso le donne, i bambini, le condizioni in cui si cerca di ridurre senza né luce, né acqua, né calore quello che sono i bunker che esistono da chissà quando sotto quelli che sono gli edifici delle città assediate, il rifiuto di corridoi umanitari laddove a Maripol vediamo le condizioni della gente. L'esempio di come l'8 marzo deve in questo momento portarci in primo luogo alla solidarietà alle donne ucraine che stanno svolgendo una funzione fondamentale, che siano nei bunker delle città assediate a vigilare, a seguire, a dare coraggio ai propri bambini, ai propri uomini che poi magari fuori cercano di resistere o che, come mi è stato descritto, si arriva al confine con la Polonia, con la Moldavia, con la Romania e i nuclei familiari si dividono perché le donne vengono nei campi profughi per dare sicurezza ai bambini e alla famiglia e gli uomini ritornano dietro a questa eroica, fortissima resistenza che è sicuramente anche quel dittatore che avrà responsabilità storiche anche per i crimini di guerra come Vladimir Putin si porta dietro. Io in questo momento però penso soprattutto alla pace e quindi al desiderio di tregua e il mio pensiero è proprio per quelle donne ucraine che più di ogni altra in questo momento hanno l'anelito verso la pace, verso l'interruzione dei bombardamenti e delle azioni belliche e sono un po' il simbolo del mondo che auspichiamo e che vogliamo. È una situazione tragica e naturalmente la solidarietà di tutti è fondamentale. Ora lo sapete che a casa nostra c'è guerra, donne insieme con maschi sono schierate a difendere, ci sono tanti donne e bambini che ora vivono in bunker, siamo in piena emergenza umanitaria e noi donne che viviamo qui in Italia e in Europa ci siamo tutti riuniti per salvare queste vittime innocenti che ora sta finendo cibo, sta finendo l'acqua medicinale eccetera e stiamo accogliendo naturalmente i nostri profughi che sono fascia più debole. Tutti maschi e tante donne sono rimaste a combattere e noi accogliamo questa, ripeto, una fascia più debole, donne e bambini che sono scappate da questo orrore che ora sta subendo la mia patria. Alle sofferenze del popolo ucraino è andato anche il pensiero dei due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci. Francesca Basanieri, presidente della commissione pari opportunità del Consiglio regionale, si è concentrata invece sulla giornata che è andata in scena al Teatro della Compagnia, un evento che al di là delle celebrazioni si porta dietro dimostrazioni concrete di storie di successo al femminile. È un'iniziativa che il Consiglio regionale fa all'ufficio di presidenza per promuovere otto donne, otto esperienze straordinarie nel giorno dell'8 marzo per la loro intelligenza, competenza, per la loro intuizione, per il loro lavoro. Però personalmente il pensiero va alle migliaia di donne che in queste ore stanno scappando dall'Ucraina con i loro figli e sono quelle sì dei veri eroi, delle persone che con la propria vita provano a mettere in salvo la vita dei loro figli. Sono tante donne che nel contempo stanno anche restando, stanno combattendo per la libertà del proprio paese, quindi il pensiero essenzialmente in queste ore va a queste donne che sono veramente in prima linea, molti di loro diventeranno profughi, molti di loro erano laureate, lavoravano, avevano una competenza della sera alla mattina per la violenza dell'azione militare della Russia. Oggi si trovano a essere delle donne profughi, da parte nostra tutto il sostegno possibile a quelle che diventeranno delle nuove eroine. Ancora una volta il Consiglio regionale si apre al mondo esterno. L'8 marzo è la festa della donna. 8 donne per raccontare esperienze, eccellenze della nostra Toscana. Lasciatemi dire che mai come oggi è importante quella sfida affascinante che diceva Oriana Fallaci, quella di essere donna. In questo mondo che è in preda a una pazzia, a una follia, noi diciamo insieme con le donne stop alla guerra. Il Premo vuole significare le eccellenze e le tante storie di donne che hanno lottato per i loro diritti, per il loro futuro e che sono riuscite a arrivare anche a delle posizioni importanti. Il nostro contributo è quello di raccontare attraverso la ricerca fatta con IRPET qual è la situazione lavorativa delle donne della Toscana e provare insieme ai tanti ragazzi e tante ragazze che ci sono qui questa mattina di invertire la rotta e fare in modo che ci siano più diritti per tutte le donne. La parola è quindi passata proprio a loro, alle persone premiate. Un numero che non rappresenta però chi si sarebbe meritato di salire sul palco. Tra chi c'era la chirurga Manuela Roncella che ha raccontato un mondo dove la sfera femminile solo ora inizia a essere rappresentata. Oppure Sonia Alpi in rappresentanza delle lavoratrici dell'ortofrutticolo del Mugello che con tenacia hanno saputo conservare il posto di lavoro nella fabbrica di Marradi. Io non penso di essere niente di eccellente perché faccio soltanto il mio lavoro. Certamente arrivare a avere una posizione del mio tipo, del lavoro che faccio non è stato estremamente semplice, questo sì. Quindi penso che sia utile parlarne, sia utile sviscerare il problema, sia utile continuare a dirlo perché la difficoltà che incontra una donna che si incontra ad arrivare a certe posizioni è tuttora reale. Ecco, lei in particolare quale difficoltà da donna ha trovato nello studio e nella carriera? Io sono un medico chirurgo, quindi immaginate è un lavoro che è prevalentemente maschile fino ad ora. Ora fortunatamente le cose stanno cambiando e in più svolgo un ruolo apicale, quindi non è sicuramente facilissimo poter arrivare a queste cose. È difficile dire qual è la difficoltà, è un insieme di fattori e ci vorrebbe una giornata per raccontarveli tutti, ma insomma penso che le cose stiano cambiando. Questa è la cosa bella, insomma. A casa hanno capito, hanno capito che questa era una cosa importante per noi come donne e l'abbiamo portata avanti, abbiamo raggiunto dei risultati, ancora ci dobbiamo lavorare, però siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. Roberto Curtolo invece non era tra i premiati, ma la sua funzione in qualità di dirigente dell'ufficio scolastico regionale era altrettanto importante. Rappresentava quel mondo dove le politiche di genere, sia a livello locale che nazionale, devono trovare radicamento, ovvero le scuole e gli studenti in numero significativo erano lì, in teatro, ad ascoltare queste storie straordinarie, oppure apparentemente normali, come quella di Federica Granai e Simone Terreni. Lei una giovane ragazza che è stata assunta in gravidanza, lui l'imprenditore che l'ha assunta. Una vicenda che dovrebbe rappresentare la quotidianità, ma che invece è passata alla cronaca come qualcosa di eccezionale. Noi speriamo che le giovani generazioni ritengano questo normale. Forse ancora completamente normale non è. Per queste iniziative come questa che noi facciamo con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono importantissime per mantenere alta l'attenzione e sviluppare una consapevolezza più ampia nei confronti del tema della parità di genere. Quindi per noi è estremamente importante portare i giovani a incontrare donne che hanno conseguito un risultato importante e che stanno lavorando per affermare la pienezza della parità fra i generi all'interno della società toscana, ma sicuramente nazionale e internazionale. Permettetemi comunque di portare anche il saluto del direttore che in questo momento è impegnato ad affrontare l'emergenza dei profughi ucraini. Fatemi fare un pensiero alle bambine, ai bambini, alle ragazze, alle sorelle, alle madri che in questo momento stanno fuggendo dall'Ucraina, si stanno rifugiando nei paesi vicini e molte stanno raggiungendo l'Italia. Sono stata assunta quando ero incinta, quindi è una storia bellissima e spero che sia di esempio per molti imprenditori che possano cambiare idea. Buongiorno, io sono invece Simone Terreni, l'imprenditore che l'ha assunta e quindi è stato un momento molto particolare perché Federica aveva superato tutte le selezioni, erano 20 candidate, si è presentata nel mio ufficio però tutta preoccupata, aveva richiesto un appuntamento con me e gli chiedo cosa sta succedendo? Ma Simone devo dirti una cosa, sono incinta. Io ho detto che problema c'è, tutto qui. A essere premiate sono state inoltre l'immunologa Chiara Azzari, l'archeologa Elena Sorge, le atlete Elena Pietrini e Francesca Baroni e le attiviste Laura Sparavigna e Lucrezia Giurlaro.